Io vorrei, e questo sia l'ultimo ed il più ardente dei miei desideri, che l'ultimo dei re fosse strangolato con le budella dell'ultimo dei preti. Questa è una frase presa testualmente da un testamento, ma non di un mascalzone ribelle, non di un rivoluzionario bolcevico, nemmeno di un giacobino. Questa frase è presa dall'attestamento di Jean Meslier, conosciuto come il parroco che non credeva in Dio. Su questo canale ogni tanto presento quelle storie che proprio non ti aspetti, e la storia di questo umile prete di campagna ne fa parte a pieno titolo. In questo video parleremo di lui, delle sue idee, della sua originalissima vita di sacerdote ateo. A chi fosse interessato ad approfondire la biografia di questo personaggio straordinario, consiglio la lettura del libro da cui sono prese la maggior parte delle informazioni su di lui. Poi naturalmente vi metto il link in descrizione. Il libro si intitola Le veridiche avventure di Jean Meslier, 1664-1729, curato, ateo e rivoluzionario. Il libro è scritto da Thierry Guidalbert. Ci sono naturalmente altri libri interessanti sul suo conto e che trovate sempre in descrizione. Jean Meslier di fatto condusse una vita tranquilla. Fu un curato di campagna in una parrocchia di circa 700 anime nella Francia di Luigi XIV, il famoso re sole. Ma furono le sue idee a far rumore, tanto rumore, e soprattutto dopo la sua morte, alla lettura del suo testamento. Meslier nasce nel 1664 a Mazerny, nella Francia settentrionale, da una famiglia di mercanti e a 20 anni su invito del parroco della cittadina in cui abitava accetta di entrare in seminario. Aveva un carattere mite, tranquillo, e per questo accettò di iniziare la vita religiosa con tranquillità, anche se pare che avesse già maturato, all'età di 20 anni, idee atee. Dobbiamo tenere presente che nella Francia di quel tempo non erano affatto rari i preti miscredenti, immaterialisti, imboscati, diciamo così, all'interno del clero. Si ricorda però Meslier per l'impatto dirompente che avrà nel suo tempo e nei secoli successivi. Meslier diventa sacerdote all'età di 25 anni, nel 1689, ed ebbe l'incarico di curato in un paio di parrocchie, la più importante delle quali era quella di Etrepigny, spero che si legga così nelle Ardenne, dove risedeva e dove rimarrà per tutta la vita senza rendersi protagonista di eventi importanti e stranamente senza in vita suscitare nessun clamore. Finché era in vita, fece parlare di sé soltanto un paio di volte. Una prima volta i parrocchiani lo criticarono quando prese come domestica della canonica una ragazza di soli 18 anni, andando contro il diritto canonico che prevedeva che nella diocesi di Reims le domestiche avessero almeno 50 anni. Intervenne personalmente l'arcivescovo della diocesi, ma Meslier se la cavò senza punizioni e senza allontanare la ragazza, facendola passare pare per una sua cugina. Il secondo episodio, invece, che gli costò un richiamo e una penitenza, si verificò nel 1716, quando l'arcivescovo di Arles criticò l'inadeguata manutenzione della chiesa e la scelta di posizionare alcuni banchi per i fedeli nello spazio riservato al signore del villaggio, senza richiedere un supplemento. Non solo, il prete avrebbe distribuito gratuitamente ai bambini le particole sconsacrate di ostia e avrebbe attaccato pubblicamente durante un'omelia quel signore, Antoine de Toulouse, considerato da lui uno spietato sfruttatore dei poveri e dei braccianti. Il sacerdote se la cavò con un mese di ritiro e penitenza nel seminario di Reims, ma nonostante queste piccole irregolarità era considerato un homme de bien, cioè un bravuomo. Accennavamo prima che il terremoto Meslier lo provoca con il suo testamento, quindi da morto, testamento letto postumo a cui inizia a lavorare nel 1724. Ne farà tre copie e le affiderà al suo successore. Meslier morirà nel 1729 a 65 anni. Non sapremo mai se previde davvero lo scandalo che suscitò con le parole del suo testamento. La sua vita di curato gli assicurò una vita dignitosa, ma la trascorse anche a stretto contatto con la popolazione e la miseria che spesso caratterizzava i territori ai margini del regno. Anche per questo James Meslier, con assoluto coraggio e diremmo oggi con personalità da vendere, maturò idee controcorrente rispetto a quelle di un comune parroco di quel tempo. Incitava i lavoratori a unirsi, a scambiarsi idee, a ribellarsi, se necessario anche con la violenza, contro le persone orgogliose e superbe e contro le rendite che signori e nobili dell'anziano regime traevano dagli ingrati lavori che pesavano sulle classi più povere. Teorizzò una rivoluzione guidata dai parroci dei villaggi francesi e propose di mettere tutti i beni posseduti in comune in ogni parrocchia, a beneficio dell'intera comunità. Per questo il suo pensiero e la critica radicale all'ingiustizia sociale lo resero un comunista antelitteram. Tanto che a Mosca, sull'obelisco nei giardini di Alessandro, su cui sono incisi i nomi dei precursori del comunismo, figura anche il nome di Jean Meslier. Il titolo completo del suo testamento è questo. Memoria dei pensieri e delle opinioni di Jean Meslier, prete, curato di Etrépigny e di Balaiv, su una parte degli errori e degli abusi del comportamento e del governo degli uomini da cui si dimostrano in modo chiaro ed evidente le vanità e le falsità di tutte le divinità e di tutte le religioni del mondo, affinché sia diretto ai suoi parrocchiani dopo la sua morte e per essere usata da loro e da tutti i loro simili quale testimonianza di verità. Dopo l'apertura di questo testamento, il prete successore di Meslier, che lo lesse alla presenza di altri parroci, rimase sconcertato e informò gli uffici giudiziari di re Luigi XIV. Poiché si trattava di un documento con le ultime volontà del defunto, non fu possibile distruggerlo, finché, nonostante la Chiesa avesse in tutti i modi cercato di occultarlo, finché non finì nelle mani del celebre filosofo Voltaire, da cui partì una diffusione capillare, e spesso clandestina, che non fu più possibile arrestare. Il testamento di Jean Meslier si articola in otto parti fondamentali, che possiamo schematizzare così. A parte prima, le religioni sono soltanto invenzioni umane, piene di errori e di sciocchezze. Parte seconda, la fede, credenza cieca, è solo un principio di errore e di impostura. 3. Falsità delle presunte visioni e rivelazioni divine. 4. Vanità e falsità delle presunte profezie dell'Antico Testamento. 5. Errori della dottrina e della morale della religione cristiana. 6. La religione cristiana autorizza le prepotenze e la tirannia dei grandi. 7. Falsità della presunta esistenza della divinità. 8. Falsità dell'idea della spiritualità e dell'immortalità dell'anima. Oltre che la chiesa, la religione, Dio e la figura di Gesù, nel mirino del testamento di Meslier ci sono la monarchia, l'aristocrazia, l'ancien regime, l'ingiustizia sociale e la morale cristiana del dolore. Meslier elaborò una densa dissertazione sulla non esistenza di Dio e fornì otto prove minuziosamente argomentata. I suoi detrattori lo hanno spesso accusato di essere un pensatore rozzo, dozinale e che non avesse basi culturali adeguate. In realtà, però, per i biografi, anche se la sua cultura filosofica non era eccelsa, aveva una buona conoscenza di pensatori e scrittori come Platone, Aristotele, Epicuro, Tito Livio, Tacito, Seneca, a Flavio Giuseppe passando poi per Tommaso d'Aquino per arrivare a Montegna e Cartesio appresi sia durante i suoi studi in seminario sia negli studi personali. Difatti, quasi tutti i libri della sua biblioteca erano di questi autori. La tessi centrale di Meslier è che la religione nasce dalla paura e i tiranni se ne servono per imporre il proprio potere. Idealizzando la sofferenza, la povertà e il dolore e condannando il piacere, la religione, in particolare quella cristiana, disarma gli uomini e li lascia alla mercè dei soprusi del potere. Secondo lui, porgere l'altra guancia non farebbe che favorire i prevaricatori e condannare i buoni a subire una vita di ingiustizia. In natura, per lui, tutti gli uomini sono uguali e da loro appartengono i beni e la terra che lavorano. Monarchi, nobili e sacerdoti sono parassiti che il popolo deve abbattere per appropriarsi della terra. Mesli attaccò la figura di Gesù, definito più fanatico di Don Quixote, e l'idolatria dei cattolici che credono nella trasformazione di pane e vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Il suo pensiero riguardò anche la vita sessuale di coppia, era a favore della libera unione e propose la soppressione del matrimonio, che secondo lui portava solo dolore, solitudine interiore e miseria. Ricordò come l'amore, soprattutto quello carnale, fosse qualcosa di naturale e non condannabile, né degno di una punizione divina. La vita di James Lier fu semplice, umile e la sua visione delle cose, il suo materialismo ateo, si vede anche quando parla della sua morte. Scrive, infatti, io finisco nel nulla, poiché io stesso non sono più di questo e presto non sarò più niente. L'unica consolazione sta proprio in quelle pagine vergate a mano. Scrive, a me è sufficiente aver detto la mia. Così si congiere dal mondo. Mi sono chiesto se esistono oggi storie simili a quella di James Lier, immaginando di sì. Viviamo nel secolo che vede in declino, per alcuni un declino inarrestabile, le principali religioni monoteiste. I seminari sono edifici ormai vuoti, o quasi del tutto vuoti. Aumenta la percentuale dei non credenti o di coloro che non si riconoscono più nelle religioni tradizionali. Un report sulle scuole primarie dell'Emilia Romagna, che risale al 2020-2021, attesta che ci sono classi in cui si supera il 70% degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. E quindi è plausibile, in questo mondo così secolarizzato, che chi ha fatto in principio una scelta di vita religiosa si penta ad un certo punto, si accorga di non credere e desideri cambiare strada? Magari di questo aspetto me ne occuperò nello specifico in un altro video, ma qui qualcosa possiamo intanto dirla. Abbiamo già ascoltato su questo canale la testimonianza di Franco Barbero, che racconta spesso di conoscere sacerdoti che non si riconoscono più nella chiesa cattolica, ma che non se ne allontanano per non perdere il sostentamento che ricevono per vivere, alloggio e stipendio soprattutto. Non sappiamo se tra loro ci sono casi di sacerdoti che hanno del tutto perso la fede, ma sappiamo anche, lo immaginiamo almeno, che se dovesse accadere non sarebbe affatto facile, credo per nessuno, prima ammetterlo a se stessi e poi ammetterlo di fronte alla propria comunità. Ad ogni modo, sappiamo che non solo questo accade, ma sappiamo dal sito clergyproject.org che accade spesso e a religiosi di varie confessioni cattoliche, metodiste, rabbini ebrei. Clergyproject, e vi invito a consultare il sito che anche se è in inglese è molto interessante, si occupa di fornire assistenza filosofica, ma anche umana e immateriale a tutti coloro che dopo aver intrapreso la vita religiosa perdono la fede. Sul sito di fatti si legge questo. Sei un professionista religioso che non crede più in nessun dio o dei? Sei rimasto nella pastorale vocazionale nascondendo segretamente la tua non fede? Stai lottando su dove andare da qui con la tua vita e carriera? Forse sei uscito da qualche tempo fuori dal ministero e forse anche pubblicamente come non credente. Forse hai scoperto che le sfide continuano ad arrivare con la tua nuova vita e hai bisogno di una buona comunità con persone che comprendano i problemi che devi affrontare. Forse ti piacerebbe semplicemente entrare a contatto con altri professionisti religiosi che si sono lasciati alle spalle la fede. E così via. Il sito continua su questa linea. Insomma, ci sono tanti Jean Meslier anche oggi ma forse non fanno più molto scalpore come una volta e non lasciano più testamenti di 1200 pagine che provocano autentici terremoti. Queste frasi di Meslier con cui concludiamo il video oggi sono approvate e condivise da molti ma all'epoca erano davvero rivoluzionari. Scriveva Vi divertite, signori, a interpretare e a spiegare il senso figurato, allegorico e mistico delle scritture vuote che definite comunque sacre e divine. Date loro il senso che voi volete. Fate dire loro tutto ciò che volete per mezzo di questi bei presunti significati spirituali e allegorici che voi create per loro e che voi decidete di fissare per loro con il fine di trovarci e di farci trovare delle supposte verità che non ci sono né mai ci sono state. E ancora, continua, Ipocriti, vi affaticate a discutere dei peccatucci della povera gente, la minacciate di perdizione eterna e non protestate contro le rapine pubbliche né contro le palesi ingiustizie dei governanti che depredano, calpestano, rovinano i popoli, li opprimono e sono la causa autentica di tutti i mali e di tutte le miserie che prostrano i popoli stessi. a a